carissimi amici del canale telegram dentro la notizia quest'oggi abbiamo il piacere di riavere con noi l'ingegner trambusti per commentare gli ultimi importantissimi dati statistici inerenti alla psicopandemia bentornato giovanni buonasera a tutti buonasera benvenuti innanzitutto giovanni cosa ti ha spinto ad approfondire le statistiche relative all'eccesso di mortalità verificatosi negli ultimi due tre anni allora seguo l'eccesso di mortalità fino dal 2020 perché è un dato statistico che è rilevante ok negli ultimi tempi sono andato a guardare i dati nello specifico di eccesso di mortalità provenienti dall'onu delle nazioni unite perché questi danno un quadro generale molto importante anche a livello planetario e devo dire che ringrazio il canale dentro la notizia perché è lì che ho trovato che questi dati erano finalmente pubblicati dalle nazioni unite quindi mi ha dato l'ispirazione per approfondire ulteriormente questa questa mia ricerca bene ti ringraziamo ma prima di passare ai grafici cosa ci puoi dire riguardo all'harvesting o mietitura sì allora questo è un concetto molto importante che va compreso per capire che cos'è veramente cosa ci si aspetta dall'eccesso di mortalità dopo un'epidemia allora nel momento in cui un virus entra nella circolazione di una popolazione in maniera del tutto naturale falcerà harvesting significa falciatura cioè proprio mietitura falcerà le persone più fragili dato che molte persone fragili muoiono si può supporre che queste persone sarebbero probabilmente morte nei prossimi mesi nel prossimo anno nei prossimi due anni quindi negli anni successivi a un'epidemia dove c'è questa questa raccolta questa mietitura delle persone fragili ci si aspetta che negli anni successivi muoiano meno persone cioè nel momento in cui il virus esce dalla circolazione come ormai sta succedendo ecco che ci si aspetta che la mortalità non solo torni ai valori precedenti ma addirittura vada a valori inferiori quindi che prima ci sia un picco di mortalità e poi ci sia una valle cioè a un eccesso di mortalità dovrebbe seguire un difetto di mortalità siccome questo fenomeno non è successo in questo caso nel nostro caso nella pandemia potete vedere il video integrale sul nostro canale telegram iscrivetevi gratuitamente per ricevere le notizie che il mainstream non dice carissimi amici del canale dentro la notizia un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a divenire il primo media italiano di informazione su telegram per continuare a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela della popolazione abbiamo bisogno del vostro sostegno se lo desiderate potete dimostrare di apprezzare il nostro lavoro a beneficio di tutti con una donazione singola o mensile per essere avvisati sull'uscita dei nostri video iscrivetevi su telegram e condividete il video più siamo più forza avremo uniti si vince un abbraccio dal vostro roby